Questo video è offerto da NordVPN, usate il codice BLACKJEEK per ottenere il 70% di sconto e un mese gratis del servizio. E saluti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi sono sempre nel mio studio ma in un'inquadratura un po' particolare, sto testando delle nuove inquadrature, dei nuovi set, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo a prima vista mi sembra molto carino. E come di consuetudine ogni anno, ogni volta più o meno che comincia un nuovo anno, io registro un What's on my iPhone sul mio nuovo iPhone, in questo caso un iPhone 11 Pro da 512 GB. Che, oddio, riempito è una parola grossa, però ovviamente avendo a disposizione tutto questo spazio ci ho installato un bel po' di cose. Ovviamente la cover che utilizzo è la cover batteria di Apple, che è oggettivamente la migliore e anche la più costosa. Però, veramente raga, con questa cover già di per sé l'iPhone 11 Pro ha una batteria veramente incredibile, migliore addirittura di quella del Galaxy Note 10. E non lo dico io, lo dicono le prove sul campo. Con questa cover praticamente lo potete usare due giorni di fila senza particolari problemi. Contate che io non lo metto in carica da ieri mattina, quindi da più di 24 ore e sono al 20%. Quindi, molto molto figo. Ora, per registrare lo schermo userò il Mac, perché la registrazione di schermo di iOS non è molto affidabile, ma in realtà non lo è nemmeno quella del Mac. Quindi, se per caso mi si corrompe il file di registrazione, come succede durante ogni registrazione di What's on my iPhone, la mia reazione potrebbe non piacere molto ai miei amici. Imposto un timer tra 24 minuti. Ok, mancano 24 minuti. Ma giura! Ok, dovremmo aver trovato un setup abbastanza funzionante. Questa è la prima schermata del mio iPhone. Ovviamente andrò molto veloce, perché non mi soffermano sulle applicazioni che tutti conoscono. La prima app utile che troviamo dopo è Parcel. Parcel è un'app, secondo me, fantastica per tracciare le spedizioni. E sì, come potete vedere, ricevo così tanti pacchi che non so neanche cosa mi arriva. Cioè, io ricevo la mail di DHL con il codice di spedizione, lo butto lì dentro e non ho idea di cosa arrivi. Quando arriva scoprirò cos'è. Poi, ovviamente, abbiamo Instagram. OnePassword, che è la mia vita. È un'applicazione estremamente sicura per salvare tutte le vostre password, i vostri conti bancari o anche una nota, una qualsiasi cosa che voi vogliate mettere sotto protezione di una password generale. Adesso la inserisco. In realtà, in genere, funziona anche lo sblocco con il Face ID, ma in questo caso non è andato. Per esempio, se apro la sezione carte di credito, qui ci sono tutte le mie carte, che magari non è il caso di aprire. Login, qui ci sono tutti i miei dati di acce... Non era il caso di mostrarli. Comunque avete capito come funziona. E anche qui la cosa bella è che si può sincronizzare con iCloud o con Dropbox. Quindi anche multipiattaforma, se la scaricate su Android o sul vostro Mac o sul vostro computer Windows, avrete tutte le vostre password e sincronizzate con il vostro account. Quindi app veramente fatta bene, la migliore sicuramente nel suo campo. Poi abbiamo NordVPN, che è anche lo sponsor di oggi, che è, a mio parere, lo sapete, la migliore applicazione se vi serve un client VPN. Tramite questa applicazione io posso sostanzialmente collegarmi ad alcuni server privati in giro per il mondo e quindi figurerà che io accedo a internet da quella nazione. Ovviamente l'applicazione ve la sto mostrando per iPhone, ma è disponibile anche per Windows, Mac, Linux, addirittura c'è un'estensione per Chrome anche in questo caso, quindi è molto versatile. E ci sono due opzioni, ho la Quick Connect, quindi io lo premo e automaticamente mi viene assegnato un server casuale, che tuttavia rimane però nella mia nazione. Infatti come potete vedere mi è stato assegnato un server dall'Italia e ora io sono sotto connessione VPN, perché infatti se vado nelle impostazioni qui la VPN è attiva. Ma posso anche scegliere qui in basso, adesso mi scollego dal server italiano, un server situato in uno di questi paesi a cui collegarmi. Per esempio se io voglio figurare che mi collego a internet dalla Romania, premo su Romania, mi si collega al server Romania50 ed ecco qua che sono connesso al server Romania50 via VPN. Perché questa funzione è comoda? Perché può essere utile collegarsi apparentemente da un altro stato per servizi come per esempio Netflix che io ho, oppure ancora meglio per servizi come Crunchyroll che è questa applicazione qui per guardare gli anime. Crunchyroll per esempio esiste in Italia ma come Netflix in Italia ha un catalogo molto più ristretto, cioè se vi collegate da altri stati vi sblocca un sacco di contenuti in più. Quindi principalmente io NordVPN l'uso per questo e funziona a meraviglia. In genere mi collego dagli Stati Uniti, quindi molto banalmente apro l'applicazione, vado a selezionare United States ed ecco qua che mi sia collegato dagli Stati Uniti. Quindi io adesso quando vado su internet risulta che mi sia connesso dagli Stati Uniti. Ovviamente il servizio diventa pagamento ma visto che ho stretto una partnership con loro se utilizzate il codice sconto BLACKJEEK potete avere intanto il 70% di sconto sull'abbonamento e poi potrete avere un mese addizionale gratis. In più se non siete soddisfatti entro 30 giorni potete richiedere l'annullamento con il conseguente rimborso di tutti i soldi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, link promo qua sotto in descrizione. YouTube, poi abbiamo la cartella lavoro dove tengo appunto le mie applicazioni per gestire il mio lavoro da YouTuber, da influencer come AdSense che è quello che mi dà la pagnotta a fine mese. Social Blade che in realtà è un collegamento app che mostra semplicemente i dati analitici del mio canale YouTube in modo un pochino più preciso. Qua per esempio lo schema delle visualizzazioni, questo mese stiamo andando una mese. Poi abbiamo Trello che io ve la consiglio veramente tanto. Trello è un'app pensata per il lavoro di squadra. Se voi avete dei progetti, e ne sto spoilerando tantissimi, in comune con altre persone e volete creare una specie di tabella di marcia, Trello vi permette di creare delle note condivise, delle baccheche condivise. Vediamo quale vi posso mostrare. La web serie di scatola nera che tanto è un progetto fallito. Vedete noi con Giulio avevamo questa organizzazione, questa scaletta in cui entrambi possiamo scrivere dai nostri iPhone e quindi ognuno quando ha tempo ci entra se la modifica e l'altro poi vede le modifiche in automatico. Quindi per creare delle liste condivise Trello è fenomenale. Skype, ultimamente l'ho scoperto soprattutto quando viaggio in America. Perché in America o comunque anche in UK all'est lo Skype vi permette di fare delle chiamate telefoniche a dei costi veramente vantaggiosi. Quindi quando devo chiamare qualcuno in Italia tramite chiamata normale uso Skype e il credito che ne consegue. Fineco che è la mia banca principale. Shopping, mi capita di utilizzare subito ogni tanto per vendere roba. Amazon Prime Now che a Milano è la vita, soprattutto per chi abita da sole si deve far portare la spesa a casa. Ebay ogni tanto lo uso per comprare cose strane di collezionismo. E questa diciamo che più o meno era la mia prima pagina. Scorrendo abbiamo Spotify che in realtà non lo uso perché ho Apple Music. Anche se lo sapete io preferisco Spotify di base vorrei farmi Spotify ma avendo tutto Apple in casa, avendo gli HomePod mi devo fare Apple Music. Reddit, oramai Reddit sta diventando famoso anche in Italia. È un social network, una via di mezzo tra un Twitter molto più per appassionati tra virgolette. Voi potete seguire una sottocategoria. Ci sono migliaia di sottocategorie. Ad esempio sicuramente c'è la bacheca Apple perché figurati se non c'è la bacheca Apple, eccola qua. Un milione e duecentomila membri. E qui chiunque può postare roba riguardo Apple. Infatti vedete hanno postato per esempio il video di Lion on Stack Tips. Chiunque potete trovare quello che volete. Il bello di Reddit è che scoprite sempre roba nuova riguardo le vostre passioni. Philips Hue per controllare le luci intelligenti, domotiche, anche se attualmente in casa mia nuova non sono montate, lo erano in quella vecchia. Tempo al tempo comunque. Clear. E' un'ottima applicazione per creare delle liste da ticcare in questo modo. Per esempio io mi sono fatto una lista di oggetti da portare quando sono in viaggio. Un po' vecchia perché c'è scritto ancora Dock iPhone 6 e Panasonic GH4 che è attrezzatura che non uso più da un sacco di tempo. Però per esempio mi sono fatto la lista delle cose da portare in viaggio e ogni volta che parto faccio così. Portato, 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 portato. Ed è utile per fare le liste da cancellare insomma. Poi abbiamo Mapster che io lo apprezzo veramente tantissimo. È un'applicazione veramente fenomenale secondo me. Come potete vedere qua abbiamo la mappa di Milano. Ho tolto la localizzazione perché se no mi individuate casa. Accidenti a voi. E da qui noi possiamo salvarci dei luoghi. Ma non solo nella nostra città natale. Ovunque nel mondo. Per esempio noi andiamo in un ristorante che ci piace oppure un amico ci consiglia questo posto. Ce lo vogliamo segnare. Questa è un'applicazione fatta apposta per fare questo. Ad esempio andiamo a segnarci il luogo del mio liceo. Cosa sfigatissima ma per non fare pubblicità a nessuno insomma. Che era in via Angelo De Vincenti 4. Per indirizzo ovviamente perché tu puoi cercare un posto sia come nome del luogo sia per l'indirizzo o addirittura per coordinate. Cos'è una caccia al tesoro. Trovi le coordinate del tesoro di Azkaban e te lo salvi su Mapster. Comunque via Angelo De Vincenti. Nuovo luogo che ovviamente lo chiamo liceo. Anche se ci sono già uscito da un anno. E qua vedete abbiamo anche i tag ovviamente creiamo un nuovo tag perché nessuno di questi gli si addice per soffrire la mattina. Perfetto lo salviamo ed ecco qui che ci è stato giunto il luogo del nostro del mio in questo caso liceo con anche una foto presa dalla mappa peraltro. È un'app fatta veramente molto bene ve la consiglio. ATM Milano Snapchat che ormai non lo usa più nessuno e invece TikTok su cui invece sto investendo veramente tanto. Sto diventando un TikToker anch'io. No però sto cercando di farlo in modo abbastanza serio non in modo cringe. Nei limiti ovviamente del possibile di non cringeare su TikTok. Quindi se volete seguirmi anche lì la cosa bella è che faccio spesso delle dirette. Siccome siamo un po' di meno è più facile parlare con voi. Quindi il mio account è questo. Se mi volete seguire pubblico dei contenuti inediti e pubblico anche delle scene tagliate prese dai miei video divertentissime che non troverete da nessun'altra parte. Questo è il mio account TikTok. Se volete seguitemi. Free Now è un'applicazione che uso a Milano per prendere i taxi quando occorre anche se in genere quando posso evito. Ovviamente VLC è un player di filmati. Per esempio quando vado in aereo mi metto un po' di film locali nell'iPhone e me li guardo con VLC. La solita cartella giochi che non vi apro neanche perché è piena di roba chi c'ha il tempo di giocare ragazzi. La cartella utility che ha un sacco di cose. Speed test per vedere la velocità della connessione. Bobby. Fenomenale. Bobby è tra le applicazioni più belle mai fatte perché vi permette di tenere sotto controllo tutti i vostri abbonamenti e capire quanto spendete al mese. Cioè per esempio voi mettete gli abbonamenti mensili. Dopo mettete quelli annuali. Per esempio Creative Cloud è annuale. Pago 385 euro all'anno però lui poi ve li somma tutti e vi fa una media di quanto spendete al mese. Cioè io mediamente tra tutti gli abbonamenti sia quelli mensili che quelli annuali in tutto spendo circa 125 euro di abbonamenti al mese. Sì ho dei seri problemi però almeno Bobby te ne fa rendere conto infatti non ne potrei mai fare a meno. Image app per controllare in remoto la Panasonic non mi serve più perché ho la Sony e per la Sony utilizzo Image Edge Memories. Questa applicazione qua di Sony anche se molto probabilmente è stata scritta con il cuo perché veramente ragazzi non funziona niente. Sony ha un software che è fatto con i piedi. Poi abbiamo l'applicazione voli. Voi lo sapete io volo tantissimo. Ho tre voli in programma in questo mese e mezzo che sta per arrivare. Skyscanner mi salva la vita perché non so se lo sapete ma soprattutto le compagnie low cost tipo EasyJet o Ryanair hanno delle tariffe diverse in base a chi le controlla. Cioè se vedono che io per esempio controllo i costi dei voli da un iPhone 11 Pro lo so che è una cosa molto spaventosa da dire ma può capitare che il prezzo sia più alto per me che ci vado da un iPhone 11 Pro piuttosto che magari uno che ci vada da un Huawei di 20 anni fa che ti costa 2 euro. Cioè c'è una personalizzazione in base al tipo di dispositivo e al costo del dispositivo con cui si controllano i voli. Skyscanner rimuove questo problema perché controlla tutte le compagnie e trova i prezzi più bassi possibile e poi tramite Skyscanner tu acquisti il tuo biglietto. Poi ho le singole applicazioni dei voli aerei Emirates all'Italia British Lufthansa Air Italy Wuling bla 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 per tenere sotto controllo tutti i vari biglietti. Produttività Dropbox e WeTransfer e Mega che uso per passarmi i file ogni tanto con le aziende con cui lavoro. Mi capita di usare TeamViewer molto comodo perché controlli da remoto il tuo computer che è a casa con questa applicazione. È fantastico averlo sull'iPad soprattutto. Cibo raga da quando abito solo Glovo è l'unico motivo per cui io sono ancora in vita non è un placement se non ci fosse Glovo io sarei molto più denutrito di quanto già non lo sembri quindi io utilizzo ormai solo Glovo però li ho tutti e uso quello che mi porta alla roba migliore ogni volta. Mi ero messo a cercare casa come un infossato con idealista immobiliare.it e alla fine non è servito niente perché questa casa nessuno lo sa ma l'ho trovata grazie a Frafrog e Richard Htt soprattutto Frafrog grazie mille. E poi Airbnb oramai fisso quando vado in un'altra città c'è sempre lui. Big Day è per i conti alla rovescia. Ecco in realtà questo conto alla rovescia non ve lo posso mostrare per privacy. Questo non ve lo posso sicuramente mostrare mi dispiace ma i miei conti alla rovescia rimangono privati. Altra cartella viaggi. Ah Lyft e Uber che li uso principalmente in America perché costano un c***o. Soprattutto Lyft e poi c'è Trenitalia e Trenord che quando non fanno ritardo li userei anche volentieri. Applicazione del McDonald fantastica per gli sconti. TV Time un'applicazione fantastica per tutti quelli che sono fissati con le serie tv perché è una specie di social network per le serie tv. E io ho aspettato di fare questo video quando avevo finito tutte le serie tv che stavo guardando perché sennò voi me le spoileravate come cani. Però qui per esempio tu puoi seguire i tuoi amici, i tuoi amici ti possono seguire. Per esempio io e Gaia ci seguiamo perché forse siamo gli unici due cristiani che hanno questa applicazione. E qui ho per esempio messo tutte le serie tv che ho guardato, posso stare al passo con la programmazione. È un social network carino per chi guarda le serie tv. Foto e video mi capita di usare Lightroom per editare le foto che poi metto su Instagram. Ma quando mai le metto le foto su Instagram? Oh business, fattura, agenzia delle entrate, partita Ive Taxman, sofferenze, non ne parliamo. AppTaxi che è l'applicazione per i taxi più diffusa a Milano però anche questa ragazzi è fatta veramente, cioè veramente un bambino di 13 anni te la sa programmare meglio. Ma non sto esagerando eh, sono serio mentre lo dico. Yelp va tantissimo negli Stati Uniti. Infatti l'ho scaricata e l'ho utilizzata lì. È una specie di TripAdvisor. È un TripAdvisor ma per qualsiasi cosa, cioè per esempio a Los Angeles sono interessato a un'azienda di videomaking e su Yelp c'erano le recensioni. Recensisce qualsiasi cosa. In Italia non è molto usata ma in America sì. Waze, ogni tanto mi capita di usarlo. Post ID è per la Speed perché ormai la Speed è diventata obbligatoria. Ritornando indietro non l'avrei fatta con poste italiane perché dalle poste italiane bisogna sempre scappare però vabbè. Booking, usata quando sono andato a Stoccolma e il software di Sony per avere il controllo remoto sulle fotocamere. Unzip, per unzippare i file zip. Viaggi, qui abbiamo tutte le applicazioni per i monopattini elettrici pubblici. Le ho usate soprattutto a Parigi perché lì ci sono più monopattini che macchine praticamente. Crunchyroll ve l'ho già fatta vedere. Kickstarter vi fa vedere delle start-up, quindi delle idee innovative che hanno bisogno di finanziamenti per funzionare. Per esempio questa tastiera, loro vi dicono abbiamo in mente un'idea figa, questa tastiera. Ci servono 45.000 euro per partire, gliene hanno donati in tutto 190.000. Voi potete finanziare dei progetti e in cambio ovviamente vi viene mandato il prodotto gratuitamente, con alcuni favori e cose di questo genere. State attenti perché a volte si trovano anche delle truffe. TripAdvisor, TicketOne, Tiscali perché è il mio gestore di internet attualmente, Viber che in realtà non uso praticamente mai e la versione Lite dell'applicazione per contare i giorni. E boom! Queste erano tutte le applicazioni che ho attualmente sul mio iPhone 11 Pro. Ovviamente ho cercato di mostrarvi solo quelle più interessanti, più particolari. Se voi avete delle applicazioni che usate quotidianamente, che ritenete non essere molto popolari, che quindi magari qualcuno potrebbe non conoscere, fatemelo sapere qui sotto con un commento perché sarebbe bello se la sezione commenti si tramutasse in una specie di scambio idee per applicazioni utili. Detto questo ragazzi, io non ho più voce. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qui sotto giù in descrizione. Cliccando qui e là ti potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Grazie a tutti i nostri amici.